Nel senso che l'ammunizione del mattino vale anche per il pomeriggio. Dovesse esserci un altro cartellino giallo sarebbe squalificato. Qui abbiamo tre atlete che hanno corso sotto i 23 secoli. Daphne Schippers sarà poi nella prossima. Grande partenza di Asher Smith. La campionessa mondiale è Juniors e qui c'è Sumare. 3-5, vanno via loro. Lea Sprunger prova per il terzo posto. Sospinta dal pubblico c'è Sumare. Asher Smith cede un po' nel finale. Martina Amidei, felice della sua prestazione? Assolutamente sì, sono felice. Ha solo due centesimi nel personale. Ottimo, ho corso molto meglio di stamattina. Quindi bene. Andiamo proprio a parlare delle due gare, di quella che abbiamo visto stamane e rispetto poi invece a oggi pomeriggio. Questa è la proposta dalla nostra leggea di Manazzarino Balani. È la gara dietro. No, bene. Stamattina secondo me mi era mancata un po' l'uscita di curva. Che secondo me è riuscita meglio. E anche se l'interna non è stato male. Almeno mi hanno tirata. Non ho tirato tanto. Quindi sono contenta. Ci sono soddisfatta da questa prova? Assolutamente sì, molto soddisfatta. Poi ci sono mamma e papà che mi guardano qua. Quindi vi saluto. Un abbraccio a Ligna di Valle. Quindi grazie a tutti. Grazie a tutti.